ciao a tutti sono barbara orsi media marketing manager di alfa sigma e in particolare oggi rivesso il ruolo di portare qui in questa bellissima cornice del my personal trainer days un prodotto con noi molto caro di cloreo mais perché è un prodotto in lancio prende fondamentale perché sappiamo che il muscolo crea un calore all'interno di un'attività noi dobbiamo stare in calatura quindi ci diamo solo dietro siamo felici di essere presenti qui per il secondo anno consecutivo perché riteniamo essere un ottimo spazio che coniuga assolutamente l'idea che ha l'azienda e soprattutto di cloreo mais di coniugare sport e benessere quindi quale migliore occasione di questa fantastica giornata per lanciare anche alle persone su milano di cloreo mais grazie 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 grazie